Il comune olandese di Bodegraven ha trovato il modo per evitare gli incidenti stradali dovuti alla dipendenza da smartphone. In prossimità degli incroci, un sistema di illuminazione speciale, sincronizzata con i semafori, avverte i pedoni quando è possibile attraversare. La striscia luminosa sul marciapiede diventa verde quando il semaforo lancia il via libera e diventa rossa quando invece segnala lo stop. Le luci sono installate in prossimità di tre scuole, proprio perché il rischio di incidenti dovuto all'abuso di smartphone riguarda soprattutto i giovani. Gli adolescenti tra i 12 e i 18 anni ha specificato l'ingegnere comunale che ha lavorato al progetto.